Le nostre città gardesane hanno vissuto oggi il loro momento di festa, graziate finalmente dal bel tempo. Si sono svolte infatti, dopo due domeniche di rinvii, la sbigolada di Torbola e Polente Mortadella di Varone. Migliaia di persone hanno messo alla prova gli abili volontari, che hanno distribuito senza interruzione il tradizionale piatto del paese, come al solito cucinato in piazza e gradito da tutti. Vediamo ora un documento filmato delle feste. A posto! 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 A posto Un'altra presa di piatto. Un'altra presa di piatto. Un'altra presa di piatto. Una presa di piatto. Un'altra presa di piatto.